la carta abbastanza la carta non riesce a ammazzarla il cane? il cane? il cane è un bai dietro la carta abbastanza la carta abbastanza la carta abbastanza la carta abbastanza che fai adesso il filmino? lo mettiati su youtube? eh, mo se stacca cazzo lo torce a spazio eh, trova lasciarlo libero vediamo se ci risolverò la sponda è la destra shhh shhh vado così? grazie grazie grazie